Sta suscitando qualche perplessità questa inversione del senso di marcia in via Pontano a Dischia Ponte. Le chiedo innanzitutto quali e quanti benefici può portare in prospettiva agli operatori del terziario del Borgo Antico, anche perché in considerazione del fatto che il parcheggio più vicino è quello dell'hotel Eugenio, in linea d'aria, qualcuno dice per quale motivo può invertire il senso, visto che comunque si arrivava a destinazione, perché c'è il problema di un ingolfamento del traffico su via Alfredo De Luca, specialmente nelle ore cruciali della giornata. È possibile conoscere le finalità di questa richiesta formulata e poi concessa dal Comune di Ischi? Premesso che io faccio un altro mestiere, non sono un urbanista, però le finalità sono state, questo è il motivo per il quale in coda e non tutte purtroppo le testate l'hanno riportato in modo perfetto e chiaro, in coda alla nostra lettera c'era scritto vogliamo un confronto pubblico anche per ognuno esprimere le proprie opinioni, le proprie richieste, motivandole, così ognuno si assumesse tutte le responsabilità. Al momento questo confronto è mancato, però mi fa piacere di questa occasione perché così noi diciamo, uno, il problema più grave, sì l'inversione di marcia se vogliamo per noi Ischiaponte, ma per un solo motivo, ad oggi stanno scendo automezzi di 12 metri di lunghezza dal parcheggio della Siena, con le macchine fermate sulla destra e qualche volta in doppia fila, con le macchine che ovviamente salgono e le macchine che scendono e c'è un ingorgo, fino a qualche giorno fa c'era l'ufficio postale operativo solo a Ischiaponte, e c'era un ingorgo enorme. I vigili per quel che possono fare, perché quando è uno o quando ne sono due, si mettono a Ischiaponte e non lasciano passare nulla sotto mano, va bene, siamo passati da un accesso all'altro, ma va benissimo perché quello che noi chiediamo oramai da anni è il rispetto delle regole. Però il problema maggiore è il fatto che c'è questo intasamento, perché pare che da lunedì i camion, che sono almeno 4 al giorno in entrata e 4 in uscita, saranno di 12 più 12, quindi di 24 metri. Immaginiamo macchine che scendono, macchine che salgono senza neanche un controllo, perché per ora la ditta o comunque la proprietà si è riservata di tenere una persona che non è autorizzata, non è un vigile urbano, ma che comunque cerca di fare da mediazione sul traffico, questo è il problema. Arrivano le macchine, trovano l'ingurgo delle macchine che salgono e si blocca. Noi l'abbiamo lanciata lì, cercando di dare delle soluzioni, pur non toccando a noi dare delle soluzioni urbanistiche al territorio. Però l'abbiamo buttata lì perché ci siamo accorti che nulla c'era in campo, tra l'altro il parcheggio è l'unica cosa che avevamo chiesto, che non è stata ancora attuata dall'amministrazione. Noi ci auspichiamo che quanto prima, almeno anche il parcheggio, ripeto, tutto è funzionale, ha un fatto la nostra richiesta, ad un fatto proprio di cercare di sciogliere un po' gli ingorghi e gli scontri, tra virgolette, fronte fronte. Ci sono invece problemi un po' più urgenti, questi sono assolutamente indubitabili. La mancanza di illuminazione è uno di questi e poi quei meravigliosi scatti che ormai stanno facendo leggendo, ogni qualvolta c'è un po' di mare e piove come si deve, Ischia Ponte diventa di fatto impraticabile. È lì veramente con tutti i seri, serissimi danni per chi opera nel commercio, ma anche per chi abita in zona che evidentemente, almeno che non si munisce di canoa, è impossibilitato a muoversi. Sono problemi, possiamo dire, che ormai fanno storia? Purtroppo negli ultimi anni aumentano sempre di più. Ecco, noi non siamo tecnici, sentendo un po' i pescatori e sentendo qualche tecnico un po' più, diciamo comunque, non ischitano, comunque non qualcuno che vuole scrivere, ma senza neanche tante cognizioni di causa, penso forse più credibile che dice che oramai è un periodo che ciclicamente il Mediterraneo, ci sono questi cicli di maree, poi noi ne sappiamo qualcosa, vicino al brasilisismo di Pozzuoli, ma anche in area che è sprofondata un tempo, quindi ci sono di questi problemi di innalzamento, di abbassamento delle maree. Si dice che quello sia un problema di innalzamento della marea nel Mediterraneo e quindi ne soffriamo di più. C'è chi ha detto, sai, con delle scogliere a monte, che tra l'altro negli anni passati anche il sindaco aveva detto che era riuscito un po' ad avere tutti i pareri, aspettava l'ultimo là per avviare questa operazione. C'è l'idea che comunque il sindaco anche l'anno scorso ha avviato, ha promosso presso gli operatori di Schiavondi a dire perché non si fa un tavolato sugli scogli, quindi si cerca anche di allungare la scogliera. Il sindaco ha parlato anche di creare un muretto che otticamente è brutto a vedersi, ma che comunque potrebbe creare una prima diga. La diga potrebbe essere quella che i canaloni vengono fatti con dei sistemi, non dico come quelli del MOSE di Venezia, ma qualcosa giù di lì. Non lo so, non siamo tecnici. Abbiamo sentito tanto parlare su questi argomenti, sappiamo che sicuramente, immaginiamo che qualcosa si possa fare. Bisogna intervenire, questo era un po' quello che forse qualcuno in tono un po' più polemico. Passami la battuta, smuovere le acque, visto che parlavamo di alta marea. Infatti, io dico sempre e soprattutto mai più che in questo momento, alzare i toni non serve a niente, serve solo a non fare niente. L'ultima battuta, sembra, e su questo il sembra possiamo anche toglierlo però, che a Dischiaponte un po' di malumore ci sia perché l'organizzazione e la mappatura degli eventi natalizi forse vi ha tenuto un po' fuori da una serie di appuntamenti di punta. Io preferisco dire un'altra cosa, ripeto, oggi alzare i toni serve poi a sperare delle persone che già sono sperate di per sé, perché viviamo un momento storico, economico, molto particolare, anche se internazionale, ma io continuo a dire, sarò pazzo da anni, che noi viviamo nella crisi generale, una nostra crisi di identità ischia. Premesso questo, noi faremo le nostre buone quattro, forse qualcuna in più, di manifestazioni che abbiamo concordato, qualche concerto, ci dobbiamo soltanto incatenare con le date già stabilite dall'amministrazione, domani valuteremo anche il discorso perché l'amministrazione ha lanciato questa notte bianca ai schiaponti, ovviamente bisogna per dar vita a una notte bianca seria, ci vuole il coinvolgimento del territorio, noi la nostra parte la facciamo. Ritengo, al di là se sono legittime o meno, delle cose sono state dette nella Casa Comunale qualche giorno fa, quindi è inutile ripeterle per non accendere ulteriori polemiche, ritengo, quello che è stato detto è stato detto, i nostri impegni sono questi, da anni a Ischiavonte le cose le paghiamo noi, le facciamo noi, auspichiamo una maggiore attenzione, perché per l'ennesimo anno, ieri mi sono sentito ripetere, e meno male che l'ho sentito soltanto io, siamo partiti dal porto per l'illuminazione, l'anno prossimo arriveremo a Ischiavonte, detto sempre questo, poi qualcuno è normale che ti risponde, però lasciamolo come battuta.